ciao e benvenuto all'interno di questo nuovo video io sono Emanuele Forcone campione del mondo di pasticceria e brand ambassador di Infundo per Italia Zuccheri e oggi voglio spiegarti nei dettagli qual è la differenza tra uno zucchero vagliato e uno zucchero semolato e questo lo farò partendo appunto da un esempio pratico attraverso due ciotoline con uno zucchero semolato e uno zucchero vagliato fine delle linee in fondo e un setaccio e qui andremo a scoprire dove sta la verità prendiamo un setaccio prendiamo il nostro zucchero in questo caso un vagliato fine in fondo lo mettiamo all'interno del nostro setaccio e guardate cosa succede una volta che abbiamo setacciato il nostro zucchero vagliato fine passa totalmente attraverso la maglia del setaccio e va a finire sulla nostra carta da forno andiamo di qua e vediamo come si comporta uno zucchero semolato comune prendiamo il nostro zucchero lo mettiamo all'interno del nostro setaccio e andiamo a setacciare anche insistendo e insistendo a fondo guardate quanto zucchero rimane all'interno del setaccio mentre un'altra parte è andata sulla parte è andato sulla parte bassa quindi potremmo dire che all'interno di uno zucchero semolato tradizionale troviamo dei grandi cristalli e dei piccoli cristalli oppure dei cristalli molto grandi e questo mi dimostra che la vera differenza tra uno zucchero semolato che siamo abituati ad utilizzare normalmente e uno zucchero vagliato diciamo fine medio o grande delle linee in fondo in realtà ci aiuta ad avere una taglia quindi un grano un cristallo ben definito che andrà a finire all'interno dei nostri impasti quindi uno zucchero vagliato ci garantisce regolarità ci garantisce costanza e soprattutto performance diverse a seconda della scelta che facciamo perché con in fundo possiamo scegliere che cristallo utilizzare nella nostra pasticceria bene io vi rimando a quelle che sono tutti i video all'interno della piattaforma infundo.it e vi auguro buona pasticceria a tutti